50 languages 74 74 74 Asking for something Chiedere qualcosa Chiedere qualcosa Can you cut my hair? Mi può tagliare i capelli? Not too short, please. Non troppo corti, per favore. A bit shorter, please. Un po' più corti, per favore. Un po' più corti, per favore. Can you develop the pictures? Può sviluppare le foto? The pictures are on the CD. Le foto sono nel CD. The pictures are in the camera. Le foto sono nella macchina fotografica. Le foto sono nella macchina fotografica. Can you fix the clock? Può aggiustare l'orologio? Può aggiustare l'orologio? Il vetro è rotto. Il vetro è rotto. Il vetro è rotto. The battery is dead. La batteria è scarica. La batteria è scarica. Can you iron the shirt? Può stirare la camicia? Can you clean the pants? Può pulire i pantaloni? Può pulire i pantaloni? Can you fix the shoes? Può aggiustare le scarpe? Può aggiustare le scarpe? Do you have a light? Ha da accendere? Ha da accendere? Do you have a match or a lighter? Ha dei fiammiferi o un accendino? Ha dei fiammiferi o un accendino? Do you have an ash tray? Ha un porta cenere? Ha un portacenere? Do you smoke cigars? Fuma sigari? Fuma sigari? Do you smoke cigarettes? Fuma sigarette? Fuma sigarette? Do you smoke a pipe? Fuma la pipa? Fuma la pipa? Pancenere? Fuma la pipa?